E' stata presentata a Roma la relazione annuale delle persone scomparse. Nel 2022 le denunce di scomparse in Italia sono state oltre 24.000, una media di 67 al giorno. Il 26,4% in più rispetto allo scorso anno. Nell'82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari. Le denunce per possibili vittime di reato rappresentano invece lo 0,22%. Questi i dati riferiti dal commissario di governo per le persone scomparse, Antonino Bella. In aumento il numero di denunce di scomparsa di minori, in particolare per gli stranieri, con un incremento di oltre il 47%. Allora su questo sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi. Molto spesso ci fermiamo solo in superficie nella valutazione di determinati fenomeni. I minori stranieri non accompagnati sono una delle afflizioni dell'incremento degli arrivi che stiamo registrando in questi mesi. Abbiamo un quadro normativo un po' complicato per la gestione compiuta degli stessi. Poi registriamo nella punta massima del dramma che accompagna certi percorsi di vita, registriamo anche il fenomeno della scomparsa. Riprovo del fatto che non basta emozionarsi quando le persone partono, quando le persone si mettono su una nave, ma poi bisogna occuparsene quando arrivano, bisogna essere in grado di sapersene occupare. Quindi la sostenibilità che come governo andiamo rappresentando sulla possibilità di affrontare questi fenomeni è fotografata anche da questo aspetto.